benvenuti a tutti a questa nuova puntata dei viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore ho trovato un altro pazzo ciao ciao parrocchia con noi c'è un franco gianfranco dimmi se tu non sei matto no no sì un po un po no ricordate che roba questo è tutto di coniglio tutto di coniglio di coniglio a guarda coniglio coniglio la moglie nissa ferrari benissimo ti ho sposati quando a settembre ciao ciao a tutti viva la calabria viva la calabria benvenuti a tutti a questa continuazione della nostra puntata di viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore siamo direttamente a casa tavoli tavoli casa tavoli con gianfranco siamo a casa sua è dalla parrocchia ma invitato a casa sua a mangiare qualche cosa siamo in compagnia di san francesso assisi giulio cesare agosto cesare chi è questo agosto a augusto cesare e niente volevamo dedicare a tutti i nostri telespettatori una canzone calabrese direttamente dalla calabria con spirito calabrese 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 Grazie a tutti.